Citizen, si è soddisfatto o no di questo pareggio? è vero che ragazzi si vince anche in campo non è che si pareggia e si perde solo ci dico pure in giro no dai, non volevo essere cattivo no vabbè, non è andata male siamo sfortunati siamo sfortunati e prendiamo troppi roll a casa è colpa per chi? per la difesa o il portiere che non faccia il nome di Trigini? no, devi imparare a buttarsi semplicemente questo Manfredi cosa vuoi dire a tua difesa? non vuole giocare più non vuole giocare più in diretta te lo stai dicendo, non è ufficiale cosa avete con la prima pagina? vabbè manca poco comunque alla fine si, manca poco quindi dico, non mollare dico Manfredi non mollare dai i soldi ve le molle invece non fanno più giocato questi sono particolari Manfredi non è che... no vabbè, a parte lo scherzo siamo sfortunati però anche oggi non è che abbiamo giocato a mano hai visto anche un palo clamoroso di Bartolone? ancora tre che ha portato sguarnita sbagliamo tanto però tra l'altro loro mancava pure il portiere quindi è davvero sfortunato si abbastanza vi rifarete con gli AC Progress che sono gli ultimi in classifica questa partita non si può fallire quindi diciamo... noi siamo bravi a perdere con gli ultimi noi perdiamo con gli ultimi a mano che non fate resuscitare i morti due mesi che non vinciamo beh, dipende da voi ragazzi non so che dirmi certo, certo questo è un senso migliore in campo per finire? in campo 3G il palo il palo il palo eh, tra patti e palo chi scegliete? il palo il palo il palo va bene, dai ragazzi vi lascio andare, ok? va bene grazie comunque ci vediamo ciao 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 ciao